Onestamente, onestamente non ho tanti fan, ne ho uno di cui non ricordo il nome, che mi ho questionato. Elastici! Ma 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 ma! Ciannico che lavora come pagliaccio in un circo, tre e cinque, grazie Giudice, credo di aver capito. Eh ma grazie. Va bene, forza allora, is per la partita inaugurale degli europei, diteci come la pensate, adesso c'è il giornale radio. Buon compleanno Filippo, tanti auguri. One, two, one, two, three, three, four. Il nostro capitano Filippo Solipella, bravi ma sì, beh Ardemagni è un po' il terzo uomo. Prima c'è la prima donna, l'unica donna, molto brava, è Elastici. Poi il percentuale di spazi di Odils è 40 Solibello, 35 Elastici e 25 Giudice Ardemagni, di Piazinten. Io penso che anche questo vaccino dovrà essere utilizzato perché un vaccino è una scelta precauzionale. Così il ministro Speranza dopo la riunione con i vertici dell'AIFA, l'agenzia del farmaco, la sospensione del vaccino a monodose è arrivata proprio nel giorno... Le monoclonali. ...e 184 mila dosi che restano stoccate a pratica di mare in attesa dei controlli e mentre l'Italia tocca i 4 milioni di vaccinati con la doppia dose, ancora troppo pochi e per questo è grande l'aspettativa...